Carabinieri di Fano? Sono il sindaco di Pergola, Francesco Valdelli. Buonasera. Io ho bisogno urgentemente di una pattuglia al punto di primo intervento di Pergola. Tra il sindaco di Pergola con la sua giunta e la dirigenza dell'Asur è ormai guerra aperta. Dopo il blitz, nella notte di sabato con tanto di carabinieri immortalato su video per testimoniare dell'assenza del medico sull'ambulanza del 118 e le seguenti dichiarazioni a mezzo stampa del direttore generale dell'Asur Alessandro Marini, che non hanno per nulla convinto il primo cittadino di una situazione a Pergola corrispondente alle normative vigenti, ora siamo al contrattacco. Risponderemo colpo su colpo all'arroganza della regione Marche, tuona Francesco Valdelli in conferenza stampa. Qui c'è qualcuno che sta giocando con la vita dei cittadini e ci spiega anche il perché. Pergola è stato riconosciuto dal piano sanitario dei successivi atti che gli danno attuazione come ospedale di un territorio geograficamente disagiato. Questo secondo anche la legge nazionale e gli indirizzi nazionali pretendono che su questo territorio vi sia un pronto soccorso e riparti di chirurgia medicina e quanto altro e tutti gli altri servizi ad essi connessi perché si possa far fronte all'emergenza e salvare la vita ai nostri concittadini e all'ampia area di territorio servito dal nostro ospedale. Cartina alla mano, il sindaco della città dei bronzi dorati, mette nero su bianco quanto dice e quanto sostiene con fermezza, tanto che nella giornata di oggi ha dato ordine alla segreteria comunale di trasmettere un esposto alla procura della Repubblica sui fatti accaduti e una diffida alla stessa Asur a voler provvedere tempestivamente per assicurare la piena operatività dell'ospedale e del servizio di 118. Vedete questa cartina alle mie spalle? Questa l'abbiamo realizzata per gli analfabeti geografici che dirigono la sanità della regione. La prima struttura utile per avere un soccorso adeguato partendo dal nostro territorio non è altro che l'ospedale di Pesaro, questa è l'assistenza dalle 20 della sera alle 8 della mattina, quindi nell'arco di 12 ore tutte le notti, il primo e l'unico pronto soccorso di interventistica cardiovascolare e neurologica la troviamo a Pesaro. Chiunque conosce questo territorio sa che per raggiungere Pesaro da Pergola in condizioni critiche ci vogliono più di 60 minuti, normalmente un'ora e un quarto, trovando condizioni di traffico buone e non trovando maltempo. L'altro pronto soccorso è quello di Urbino e quello di Fano che non hanno le caratteristiche del pronto soccorso di Pesaro e sapete benissimo quali sono le condizioni di queste due strutture ospedaliere. Non si gioca più sulla vita dei cittadini e veramente risponderemo in ogni piazza a quello che sta accadendo nella nostra provincia che voglio ricordare conta solo 2,6 posti letto ogni 1.000 abitanti contro i 4,7 della provincia di Ancona. Questo atteggiamento della politica regionale grida vendetta, questi personaggi si mettano una mano sulla coscienza.